Anche per i pazienti italiani sarà rimborsabile un farmaco innovativo contro lo scompenso cardiaco. Il farmaco è composto da Sacubritil Valsartan e riduce la mortalità per cause cardiovascolari del 20% rispetto alla terapia di riferimento, determinando un prolungamento della sopravvivenza. Il farmaco è il primo di una nuova classe terapeutica, gli ARNI, e rappresenta la prima grande innovazione terapeutica nel campo dello scompenso cardiaco cronico da almeno 15 anni a questa parte. Il Sacubritil Valsartan rappresenta una novità nell'ambito dell'armamentario terapeutico per i pazienti con scompenso cardiaco perché ci consente di andare a aumentare degli ormoni, perché il cuore è anche una ghiandola che produce ormoni, che sono gli ormoni natriuretici. Questi ormoni natriuretici hanno fondamentalmente un'importantissima azione, che è quella di vasodilatare. Sì, per noi la disponibilità di questa nuova classe di farmaci, gli ARNI, rappresenta veramente un cambio di paradigma, cioè una piccola rivoluzione culturale. Fino ad ora la terapia farmacologica dello scompenso cardiaco è consistita nel cercare di antagonizzare, cioè di bastonare i sistemi neuroormonali con azioni, fra virgolette, cattive in cronico. Con questa nuova classe di farmaci, invece, la filosofia di azione cambia completamente. Questi farmaci hanno già superato la prova dell'evidenza clinica. Il rischio relativo di morire oppure di essere ricoverati per scompenso cardiaco, a volte le due cose coincidono, si riduce circa del 20%. Un dato che possiamo leggere anche in una maniera differente in termini di allungamento della vita di questi pazienti. Un paziente tipico, siamo in grado di allungare la vita di questi pazienti fino a un anno e mezzo, in pazienti più giovani anche fino ai 2-2 anni e mezzo, considerando che l'allungamento della vita è accompagnato anche da un significativo miglioramento della qualità della vita di questi pazienti, che tendono ad essere ospedalizzati in una maniera molto inferiore e quindi direi che per i pazienti, oltre a vivere meglio, vivono con una qualità di vita decisamente migliore.